Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di gt online? Bene, contattami su instagram, link qua sotto nella descrizione Bella ragazzi, qui sui libri, ritrovati nel mio canale in questo nuovo video, oggi siamo qua ragazzi, ritornati su gt online Come ogni mercoledì con la nostra serie preferita, ovvero la serie day, e oggi siamo qui con il day 31 Sono le prime ore della mattina ragazzi, il sole sta per sorgere sullo santos Quindi beh, quale miglior modo per iniziare un episodio, se non uscendo di mattina presto da casa E raggiungere il nostro ufficio per fare una bella vendita La vendita, recupero, che vendita Quindi ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, vi raccomando superiamo assolutissimamente i 500 like Se volete che la serie day continui, ma soprattutto vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici Ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, se lo fatti siete dei grandi Ebbene ragazzi, adesso noi siamo in direzione ufficio, come già detto prima E vorrei vedere cosa fai tu maledetto Vorrei vedere un attimino gli incarichi Gli incarichi abbiamo, partecipo a una sfida free mode Venti delle armi Le armi sarebbe il bunker, tipo, imposto il tuo profilo in cerchia di lavoro Si potrebbe fare Valuteremo, tra l'altro sono di nuovo in pubblica da solo Ma ormai che ve lo dico a fare, non è una novità E io di preciso dove diavolo sto andando Bene, eccoci qui all'interno del nostro ufficio Buongiorno, si comincia a lavorare subito alle prime ore della mattina Tra l'altro abbiamo 480.000 dollari Perché sono entrato e mi hanno dato 200.000 dollari Se volete sapere come ottenere 200.000 dollari a settimana senza fare nulla Seguite il video che vi lascio qua sopra nelle schede Ovviamente dopo che avrete finito di guardare questo video Altrimenti vi... Vi do un consiglio fake per farvi perdere i soldi Mmm, credo di avervi convinto Rintracciamo un veicolo Consegna la massacro al magazzino veicoli Sì, ma la massacro è bassa Bella Sì, sì, è proprio un bel giorno Guarda, se continuiamo così Il buongiorno si vede dal mattino Se già partiamo con una fascia bassa È finita Ma che cavolo Ma che è sta nebbia, oh Ma io non lo so Ma... Può sembrare una cagata Tra l'altro 9 km per pigliare una massacro De fascia bassa Vabbè, bellissimo Il buongiorno si vede dal mattino Comunque può sembrare una cavolata Stavo dicendo Ma secondo me GTA tipo d'estate Le giornate sono migliori Non lo so Perché ho sempre fatto caso a sta cosa Io c'è d'inverno tipo mi capitano sempre giornate Con la pioggia, un macello Mentre d'estate mi ritrovo tipo molte volte Il sole e ste robe qui Però boh, a quanto pare quest'anno non è così Non lo so Quest'anno va di nebbia Ragazzi, non so che abbiano fatto Ma sei giorni su sette su GTA Sono fatti di nebbia Oddio Ho capito quale missione è Cioè, ma veramente Per una fascia bassa Ma Cioè, ti rendi conto Per una fascia bassa Devo andare in laboratorio U-Main Prendere il Cargobob Rimorchiare la macchina Ma macchina che si trova a Forza Uncudo Cioè, no, vabbè Ma è roba da rage quit Ragazzi, ma Non mi è mai successa una roba del genere Io ve lo giuro Cioè, in genere Le auto che mi spawnano così lontano Soprattutto con questa missione qui Sono fascia alta Sto giro proprio Ma che, oh Ma non si vergogna sto gioco Bene, ed eccoci Laboratorio U-Main Che ci abbiamo? Oh Se dove l'arma Prendi la Ma Ma io non lo so, ragazzi Cioè, nel senso Voglio dire Non mi pigliava l'arma Maledetto di un omino Schifoso E aggangiamo sta massacro Ma poi che zona brutta Per pigliare la macchina Cioè, manco puoi scendere A sparare la gente Devi proprio fare tutto così E ovviamente E ovviamente l'auto si danneggerà Perché sparano, capito? Non è che dici La difficoltà della missione Varie in base Alla categoria del veicolo Lì, che roba è A me pare una stronzata Sinceramente Via sta a Zentorno Qui sta massacro E andiamo via Eccoli 336 dollari di danno Vai Tra l'altro, ragazzi Mentre mi dirigo Presso il mio magazzino Avrei un quesito da porvi Ma per caso All'inizio del video Nel mezzo del video È comparsa la pubblicità Di un certo tizio Che vive a Dubai Perché io ultimamente Ho questo piccolo problema Ogni video che guardo C'è il tizio che vive a Dubai Con la Lamborghini Senti, facciamo una cosa Mi spiace Cargo Bob Parcheggia 1.818 dollari di danno Proprio 1.8 e 1.8 Perfetto Sapete che non so Se mi conviene Fare una ventita o meno In realtà no Perché No, no, no Che non la faccio una ventita Perché ci sono gli NPC maledetti Che mi fanno saltare la macchina Siamo fuori Piuttosto visto Che ho la fortuna Di ritrovarmi In una pubblica da solo Vento ciò che ho nel bunker Così almeno completo Pure la sfida giornaliera E voglio passare anche qua Perché voglio capire Un attimino Perché è verde Solitamente è bianca Sta roba delle maschere Perché adesso è verde Non lo so Ho come il presentimento Che sia qualcosa Di legato al colpo Però boh Noi ci passiamo Prendi le maschere Per il colpo casino Diamond Però vedi Eh allora Aspetta un attimo Via sta polizia E andiamo a pigliare la maschera Ma Oh Un aspetto ridicolo Ma anonimo Ma non ho capito Le ho prese le maschere o no Non c'è capito niente Vabbè Sì le ho prese Ma quanto Boh raga Io non c'ho parole Si è bloccato tutto E mi ha preso la maschera A caso Bene sarà curioso scoprire Che maschera ci uscirà fuori Una volta che Faremo il colpo Che top ragazzi Oh Ed eccoci qui Arrivati al nostro bunker Parcheggiamo l'auto Che come al solito Non la parcheggiamo E andiamo a vendere Sta merce Dovrei averci Un centomila dollari Da vendere Credo Zero Raga qui c'è qualcosa Che non va Cioè io ricordo Sempre di fare Scorte Da avere dei soldi Da vendere Ma me da sempre zero Ma sai che Se è giusto Buggato qualcosa Eh aspetta un attimo Voglio controllare Pure gli altri business Perché se mi da Zero pure lì Raga c'è qualche problema Nel senso Voglio dire Cioè Allora Ed eccoci qui Sono fermamente sicuro Di aver recuperato Delle scorte Ed averle anche acquistate Questo me lo ricordo Perché l'ho fatto Di recente Raga se ho zero C'è qualcosa che non va Boh qui non ho zero Qui va bene Fortunatamente Ma io sono sicuro Che il bunker Abbia qualche problema Ho recuperato Più e più volte Ma sempre zero Ho acquisto delle scorte Per qui Raga così tanto Per hobby Boh io sta cosa Non l'ho capita Sinceramente Fammi vedere dove La sfida a tempo Che magari facciamo quella Al porto Sirius Aspetta un attimo Ma prima di andare La sfida a tempo Quel che diavolo è Vado qui Al magnifico E simpaticissimo Cosa qua Com'è che si chiama Casi no Almeno ci giriamo la ruota Buongiorno Uuuuh E la Wagner Questa è bella Ragazzi Oh fammi vincere Te prego Gioco Fa qualcosa di buono Dai è da tanto Che non vinco la macchina Per favore Abbi pietà Banane vincono La macchina Raga Vabbò 40.000 dollari Buono 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 La Wagner Mi piaceva di più Però 40.000 dollari Mi sono ripagato Praticamente Le scorte Che ho comprato Ma sapete Cosa c'è Già che sono qui Anzi che andare direttamente A fare la La roba Ma Vabbè la gente scompare Ormai È normale Su GTA Comunque sia Andiamo a fare un'altra preparazione Per il colpo No? Ma facciamo questo qui Dai Dispositivo hacking Perché devo andare all'FIB Raggiungi la puerta Hmm Eh sì È il quartier generale Dell'FIB O cosa Boh A giudicare dal fatto Che stiamo andando Verso le zone di mare Direi che non è Un coso qua Quartier generale Della FIB O quel che diavolo è Neutralizza gli agenti Corrotti E recupera il passo Ok Salve agenti Corrotti Vi neutralizzo No quello è un medico Non lo neutralizza il medico Il medico no Eh già No Neutralizzato il medico Scusi Non vole Ma valla Che roba Dov'è che sta sta card Nel portafoglio Figlia Che gioco infame Mi ha automirato L'infermiere Ma che è Ma perché è Sta cosa Le scorte che è acquistato Sono arrivate Perfetto Bisogna vedere se scompaiono Ora Perché sai com'è Ormai io di sto gioco Non mi fido più Comunque sia Dovevo vantarci comunque Al quartier generale Della Della cia qua Good morning Dov'è l'ascensore Questa qui Non va bene Non ti piace Io questa cosa Non la capisco Sinceramente Perché solo una Va bene Probabilmente In una valigetta metallica Premi per visualizzare L'app Vediamo dove sta Camminiamo Normale Magari Infatti Io direi che è proprio acqua Qui Quindi lasciamo perdere Da qui Sale Sarà in uno di questi uffici Sicuro Qua Ah eccolo qua Bene Perfetto Salve Collega La mia giornata di lavoro È finita Andiamo Oddio No 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 Perché 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 Why Why Ero stato furtivo Bravino Ma che cavolo Chi è preso Corri via C'entri sta macchina E dov'è che vado Regà Eee Qua Vado qua Vado qua Dov'è che va Qua 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 Ma che Cioè adesso la polizia Si invila pure Nei parcheggi Ma Faccio vedere io Come li semino adesso Altro che Guarda qui Proprio una tattica antica Si chiama Passa da qui E passa da lì Opla E qui Col cavolo che mi vedete Ragazzi Cioè dai Ma non Ma non è vero Via 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 Immediatamente da qui Ma poi non possono saperlo Cioè come fa È impossibile Cioè se io sono andato dritto Mi sono infilato in là Non puoi sapere che sono lì Cioè cercami nell'altro parcheggio Prima Buh Vabbè Opla Quasi quasi ne farei un'altra Ma dopo Andiamo prima a recuperare La recuperare A fare la sfida a tempo Grazie per non avermi sistemato l'auto Comunque Ed eccoci qui alla sfida a tempo Fammi vedere un attimino Che razza di sfida è Poi tra l'altro Sono ancora vestito da FIB Ma vabbè Saliamo a bordo della nostra Shotaro E vediamo Fammi vedere dove che devo andare Beh dai Ne ha anche tanto difficile Molto semplice A dire la verità Questa la voglio fare Il primo tentativo Dopo la scorsa settimana Che è successo un delirio Raga Primo tentativo Let's go Credo sia praticamente Impossibile Fallirla A meno che non mi schianto Contro qualche macchina Qualcosa Cosa che probabilmente Accadrà nel giro di Due chilometri E non di più Ecco Prepariamoci alla curva Ragazzi Mi raccomando Occhio Curvettina Oh mio dio Ho fatto il pello al palo Ma lasciamo perdere Per il momento Direi che tutto va A gonfie vele Non parla troppo Willy Se no poi finisce male Mi prude il naso Vedi ecco Adesso a me Prude il naso Io come faccio A grattarmelo Che mi sto impazzento Ragazzi No Ma ti pare normale Che mi deve prudere il naso Ora Cioè non prima Ma ora Vabbè che ho vinto Ragazzi Cioè praticamente È impossibile perdere Però mi prude il naso Tantissimo Devo Ah è tutto con calma Aspetta Aspetta Arriva Arriva Ola 101 mila dollari Dopo essermi grattato il naso Come si deve Eeeh Aver vinto 101 mila dollari Al primo tentativo Fantastico Io direi che Giusto per andare a spezzare un po' Farei un'attività Uuuuh Scorta al volo Soldi tripli addirittura Niente male Bene ragazzi Ed eccoci qui con il primo round Adesso vi mostrerò Come perdere a questa modalità Perché La mia squadra farà schifo Come al solito Mentre la squadra degli altri Sarà quella migliore Perché funziona sempre Questo Vabbè raga Lasciamo perdere Buona la prima Cavolo Personala Vai Controllalo Dai Dai Ti pare normale Questo qui Esplode Io mi giro Mi vado a recuperare La bandiera Che ho lasciato qui Opla L'ha presa Ma non ho capito Ah ok Buono Ehi tu Dove vuoi andare Fermati Ti devi fermare Tu la bandiera Non me la rubi Tu la bandiera Non la rubi A me Capito Guarda sto impecillo Vieni qua Ah ah Sei schiantato di brutto Proprio Fammi piglia Questa roba qui Opla Bandiera recuperata E si va Via Ah ah Preso Sai com'è T'ho sparato 1399 missili O ti piglia O ti piglia Rezo 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 Draw Hola ragazzi Ultima consegna Della partita c'è un round Vincitore Ce n'è un altro 60 mila dollari Beh a sto punto spero solo non ci siano 14 round Abbiamo finito ragazzi mamma mia partita vincitore alleluia 145.000 dollari quanti soldi 18.000 rp Ragazzi abbiamo vinto veramente tantissimi soldi mezz'ora d'attività ma alla fine ne è valsa la pena Che tra l'altro non abbiamo neanche finito cioè se finivamo i 15 minuti ci dava 60.000 ed erano ancora più soldi Quindi ragazzi che dirvi fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like Oggi abbiamo fatto tutto e niente come al solito ma abbiamo guadagnato 140.000 dollari da un'attività direi che è fantastico Quindi ragazzi mi raccomando superiamo assolutissimamente i 500 like se volete che la serie dei continui Ma soprattutto condividete il video con tutti i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video Quindi se volete passare dal mio è tutto Bella raga Ciao Ciao Grazie a tutti.